Federico I di Ointaufen, meglio conosciuto come Federico Barbarossa, è stato re dei Romani e d'Italia. Sali al trono dei Romani il 4 marzo 1152 e nella primavera del 1155 fu incoronato re d'Italia a Pavia. Federico Barbarossa era figlio del duca Federico II e di Giuditta figlia del duca di Baviera Enrico IX. Ambizioso, con straordinarie capacità organizzative, abile stratega militare. Dagli storici viene considerato tra i più grandi imperatori medievali del Sacro Romano Impero. Nel corso del suo regno, Federico Barbarossa cercò di rafforzare il potere imperiale in Germania e in Italia. Nel 1158 promulgo la Costituzione di Roncaglia che proponeva un sistema giuridico centrale e uniforme imperiale. Nel 1167 si scontro con la Lega Lombarda, un'unione di città-stato italiane che voleva limitare il potere imperiale in Italia. Dopo vari conflitti durati alcuni anni Federico Barbarossa sconfisse la Lega Lombarda nel 1176 nella battaglia di Legnano. Il Barbarossa intrattenne rapporti con l'impero bizantino e prese parte alle crociate. Nel 1189 partecipo alla Terza Crociata con altri sovrani europei per tentare la riconquista di Gerusalemme. Il soprannome Cuore di Leone con cui è noto viene dalla sua abitudine di combattere in prima fila a fianco dei suoi soldati. Sin da giovane, Riccardo dimostro di essere un coraggioso guerriero ed un leader carismatico. Nel 1170 venne nominato duca d'Aquitania da suo padre ove iniziò a governare con fermezza. Nella Terza Crociata Riccardo guido i cristiani in una serie di vittorie, tra cui la presa di San Giovanni d'Acri nel 1191. Non riuscì però a conquistare Gerusalemme e fu costretto al ritiro in Inghilterra nel 1192. Nello stesso anno fu catturato dal duca Leopoldo V d'Austria, fu imprigionato per due anni e per essere liberato verso un riscatto di 150.000 marchi. Durante la sua assenza dall'Inghilterra suo fratello Giovanni aveva usurpato il trono. Riccardo spodesto ed esilio, il fratello riprendendosi il trono nel 1194. Nel 1199 Riccardo fu ucciso da una freccia durante l'assedio del castello di Calus Chabrol in Francia. Riccardo Cordi Leone è un personaggio controverso. È elogiato per il suo coraggio e la sua leadership, criticato per crudelta ed egoismo. Tra i successi può vantare la conquista di San Giovanni d'Acri, la sconfitta del Saladino, sultano d'Egitto e della Siria nella battaglia di Arsuf del 1191. La firma del Trattato di Rambla nel 1192, che pose fine alla terza crociata e la riconquista del trono d'Inghilterra dopo aver sconfitto il fratello Giovanni. Riccardo Cordi Leone ha avuto un impatto significativo sulla storia inglese ed europea. Il suo soprannome è un simbolo di coraggio e del suo impegno per la cristianita.